Hanno partecipato in modo attivo e responsabile alla vita cittadina, imparando a destreggiarsi in ambiti ben diversi da quello della scuola, scoprendo magari un possibile futuro lavoro. È stato questo e forse ancora di più il Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Verona per i 17 ragazzi che hanno prestato servizio. Questi giovani sono stati coinvolti in specifici progetti negli ambiti della salvaguardia del patrimonio artistico, nell'ambito dell'educazione e della promozione culturale, prestando servizio nei musei civici, alla biblioteca civica, al Centro Internazionale di Fotografia e presso il Servizio Politiche Giovanili. È un'offerta in più che però ha un doppio beneficio sia per questi giovani che fanno questa esperienza ma anche per chi lavora perché devono offrire un senso di responsabilità e quindi il buon esempio. Un'esperienza importante, un'opportunità offerta ai giovani dai 18 ai 28 anni il Servizio Civile Nazionale e se da un lato si fa il bilancio dell'esperienza passata, dall'altro ricordiamo che sono aperti sino al prossimo 16 aprile i termini di presentazione delle domande per poter partecipare ai prossimi progetti. Per gli enti legati al Comune di Verona 24 i posti disponibili ripartiti nei diversi settori così come è successo quest'anno a Marica e Pierpaolo. Perché hai scelto di fare questa esperienza? Perché volevo trovare, di provare a fare un'esperienza che mettesse sia volontariato che lavori, allora ho scelto il Servizio Civile perché mi sembrava la soluzione più adatta per mettermi nel mondo del lavoro però in maniera più soft. Che cosa hai fatto? Io ho lavorato a Castelvecchio nell'ufficio dell'amministrazione perciò mi hanno insegnato a fare le liquidazioni, ad archiviare i documenti, le pratiche d'ufficio, rispondere al telefono, è stata una bella esperienza. Che cosa hai fatto? Dove l'hai fatto il Servizio Civile? Al Museo di Castelvecchio e mi sono occupato del gabinetto numismatico principalmente, quindi ho assistito la dottoressa Arzone che è la responsabile del gabinetto numismatico con la gestione di file, di fotografie, di monete greche, con la pulizia, la fotografia di alcune monete e di reperti storici. Sarà il tuo lavoro? Non lo so, però magari mai dire no insomma.